Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi un nuovo unboxing. Scopriamo insieme di quali prodotti dopo la sigla. E rieccoci, rieccomi, un unboxing di quale prodotti? Siete curiosi? Oggi ero al supermercato, stavo comprando altri prodotti, in realtà stavo cercando un dentifricio e nell'alzare lo sguardo ho visto un nuovo spazio dedicato nella parte alta dello scaffale a questa linea di prodotti, una linea di prodotti che conoscete sicuramente già. Devo dire che l'ho presa per il suo prezzo perché non l'avrei mai presa, l'avevo già guardata su altri siti, l'avevo guardata anche su Amazon ma il prezzo mi sembrava troppo elevato e quindi avevo deciso su Amazon di non prenderla. Oggi l'ho vista, aveva un prezzo veramente competitivo e quindi ho deciso di acquistarla. Di quali prodotti sto parlando? Lo so, non state più nella pelle. Sto parlando dei Gillette. Gillette King C, quindi con il nome del loro fondatore, è come vi dicevo un prezzo competitivissimo perché il rasoio l'ho pagato 10,30€ più o meno, 10,32€, 35€, una cosa del genere. Contiene oltre al rasoio 5 lamette ma adesso lo vedremo insieme, mentre invece le lamette le ho pagate 3,50€ più o meno. Quindi un prezzo veramente per l'accoppiata super vantaggioso e quindi ho deciso di provarlo. Non attendiamo oltre, giriamo la cam, ci mettiamo in modalità unboxing e recensioni e vediamo i prodotti da vicino. E rieccomi, rieccoci, modalità recensione per questi King C Gillette. Iniziamo dalle lame, così le smarchiamo, tra virgolette, velocemente. Come vedete la mette per rasoio di sicurezza con rivestimento in platino. In parte la firma di King C Gillette, il fondatore della casa, vediamo se riesco a mettere a fuoco, con oltre un secolo di innovazione e competenza e l'unica linea di prodotti che porta il nome del fondatore della nostra azienda, King C Gillette. Queste lame affilate in acciaio inossidabile hanno un rivestimento in platino per una rifinitura di precisione e una lunga durata nel tempo. Poi ci sono le altre lingue. Lamette di ricambio per rasoio a doppia lama, prodotte da Procter & Gamble. Design in Boston, by Gillette. C'è la data. Boston 1901, 10 lame con rivestimento in platino. Ripeto, queste lame le ho pagate 3,50 euro circa, un po' di più, 3,50 euro e qualcosa. Vediamo se riesco, non riesco. Prendiamo un taglierino, facendo... No, si, si toglie, si toglie, o meglio ancora. Ok. Perfetto. Andiamo ad aprirle insieme. Ok, guardate che bella come sono posizionate bene all'interno della scatola. e si tolgono perfettamente. Come vedete, l'innesto, l'inserto è diagonale. Quindi, due pacchi e si incastrano anche. Veramente ben studiato. Quindi, complimenti alla Gillette per questa confezione. Confezione, invece, delle lame da 5 con il logo creato apposta per questa edizione. Fine Grooming Science 1901 e anche di qui. Pacchetto molto minimal, se vogliamo, solo fondamentalmente il logo che va a richiamarle. Vedremo poi, in una sbarbata, come sono le lame. Se sono disegnate, che disegni hanno e quant'altro. Questo era per quanto riguarda le lame. Dieci lame aggiuntive che ho deciso di prendere per tenerle, per vederle, per testarle. Veniamo ora al nostro rasoio. Anche in questo caso, il logo di questa edizione. Rasoio di sicurezza, progettato con pettine chiuso per massima precisione. Con rivestimento cromato. Come vedete, qui c'è il disegno, lo conoscerete tutti. Qui in basso c'è invece l'indicazione, un rasoio 5 lame, che è il contenuto della confezione. Come sempre, la firma Gillette Seeking. Il dietro, vediamo, ok. Con oltre un secolo uguale. Il manico cromato di alta qualità con la lama rivestita in platino. offre la massima precisione per rifinire basette e il contorno della barba. Il nostro design a pettine chiuso consente il massimo controllo, mentre l'alta qualità del manico lo rende resistente nel tempo. Anche in questo caso poi ci sono le altre lingue e l'indicazione delle lamette di ricambio. Rasoio di sicurezza, Procter & Gamble a Roma. Come vediamo qui sotto, il rasoio è prodotto in Cina. Mentre invece il design è stato fatto da Gillette a Boston. Codice a barre, il logo, King C. Gillette. Vediamo se riesco a metterlo un po' più a fuoco, perché no, ok, questo non è un segno particolare, è semplicemente la cappa leggermente graffiata. Pensavo fosse qualcos'altro. Sul bordo della confezione invece abbiamo Boston 1901, un rasoio di sicurezza, 5 lame. Andiamo a aprirlo, che dite? Sì, io direi di aprirlo. Sempre piano per non rovinare la confezione, perché a me piace tenere anche le confezioni. Quindi vado ad aprirlo, piano, piano, piano. Sono curiosissimo, devo dire la verità. Andiamo a vederlo. Anche qui la confezione semplice, ma ben curata. Le lamette sono qui sotto, incastrate, fine grooming, si tolgono in questo modo. Bella, mi piace. Vediamo, ok. Andiamo a togliere il nostro rasoio. Un rasoio... Rimettiamo al posto le lame. Un rasoio dal peso importante, devo dire. Non me lo sarei aspettato. Invece, un peso che si sente. Tanto vi faccio vedere qualche dettaglio. Il dettaglio del logo con le iniziali. Pettine chiuso con queste scanalature che dovrebbero andare a disciplinare leggermente il pelo. Dico leggermente perché sono molto molto leggeri, almeno così a prima vista. Porzione laterale o vista laterale. Molto pulito, devo dire. Questa cromatura o questa finitura in platino, perché voglio andare a rivedere quello che c'è scritto nella scatola. Quindi il manico cromato di alta qualità con la lama rivestita in platino. Ok, perfetto. Quindi queste cromature però sembrano, devo dire, ben fatte. Ma nel girarlo, vedete anche voi, c'è qualcosa sotto la testa. Andiamo comunque a vederlo. Manico liscio, dicevo, molto molto pesante. Non mi sarei aspettato un peso del genere. Sul manico c'è una lavorazione a spirale. Come vedete è lucido, quindi le mie impronte sono già rimaste ovunque. I cavalieri rimangono solo leggermente sporgenti, ma nulla di che. Teniamolo sempre dai lati. Andiamo a ruotare il manico. Vediamo. Manico adeguatamente lungo. Come vedete va a finire con questa parte stondata. Mentre sopra abbiamo il foro in cui va poi a infilarsi il filetto. Pettine leggero, leggerino. Quindi il manico è bello pesante. Mentre il pettine mi sembra è abbastanza leggero. Poi farò una recensione dettagliata anche su questo. Quindi un pettine che scende e poi sale. E invece un, ecco cosa c'era, un'indicazione. Please read manual and remove paper before use. Ok, leggere il manuale. Quindi probabilmente ci sarà anche un manuale. Bello, pulito. Un po' cromato, anzi decisamente cromato. Un po' di gioco anche qui. Leggero. Non troppo. Ma ripeto una piacevole sorpresa soprattutto per quanto riguarda il peso. Me lo aspettavo molto molto più leggero. Ve lo giro con il logo dritto. Invece ha un peso significativo. Vedremo come va durante la rasatura. Visto che ci hanno detto di leggere il manuale prima dell'uso. Andiamo a cercare il manuale. Qui vedo le lamette. Proviamo a vedere se è qui sotto. Ma non sembra. Ci sono due cartoncini. Ma non vedo alcun manuale. Quindi chissà quale manuale devo leggere. Nessun problema. Dovrei essere abbastanza in grado di usarlo. Ok. Giriamo ancora la cam per le conclusioni finali. Bene cari amici. Che dire quindi di questo Gillette King C. Sì ben lavorato. Non vedo difetti. E sono veramente molto molto curioso di provarlo nella prossima sbarbata. Sì lo guarderò ancora per un po'. Perché mi piace. Sono rimasto positivamente impressionato. Devo dire. Vale i 10 euro che l'ho pagato. Scopriamolo insieme nella prossima sbarbata. Le finiture però devo dire che risultano molto molto piacevoli. Bene cari amici. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi del mercoledì e del sabato alle 10. Ringraziarvi per essere stati con me. Ricordarvi di iscrivervi al canale. Attivare la campanella. E mettere un mi piace. Se volete farmi sapere cosa ne pensate di questo rasoio scrivetemelo direttamente sotto nei commenti. Venite anche a seguirmi sul mio profilo Instagram rasaturatradizionale.it e se volete leggere tutti i dettagli e le recensioni per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze nel mondo della rasatura tradizionale venite anche a visitare il mio sito web rasaturatradizionale.it Alla prossima sbarbata. Ciao!